FRIENZE 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 SI è convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali? E' il suo regalo per Hitler? Un pugno di superuomini con lui al comando. Io come faccio senza te? Non ci separa nessuno. Manco la guerra. Guarda che ha combinato! Io non ammazzo nessuno. La guerra è guerra. Falli fruttare sti poteri. Il mio non è un dono. È una maledizione. Benvenuti. 3, 2, 1 Io non è il posto più bello del mondo. Stai in futuro. Questi tre, chiamala! Siamo la sola speranza. Tu sei speciale, ragazzi. Tu hai un dono. Grazie a tutti.